Ciao, oggi vorrei parlarti di un fenomeno particolare, che è il ghosting, ovvero sia l'effetto in cui il tuo partner improvvisamente scompare. Non risponde più al telefono, non legge più i messaggi, praticamente cestina tutte le tue mail, quindi rifiuta praticamente ogni tuo contatto, delegando al silenzio totale il suo definitivo distacco. Bene, anche se l'atteggiamento del ghosting è simile al no contact oppure al trattamento del silenzio, ovviamente lo scopo di tutto questo è differente. Chi utilizza il metodo del ghosting, quindi della tecnica del fantasma, è sicuramente quello di allontanarsi, di staccarsi, però lo vuole fare senza fornire nessuna spiegazione, o perché non ce l'ha, ovviamente la spiegazione, oppure perché non ha il coraggio di affrontare questa determinata situazione. Effettivamente chi scompare lasciando il partner senza alcuna spiegazione lo fa perché capisce più delle volte che non è capace a gestire l'eventuale reazione dell'altra persona. Quindi è un po' un atteggiamento di chi non ha il coraggio di affrontare effettivamente la realtà e effettivamente il problema della coppia. Quindi improvvisamente questa persona sparisce, scompare, così perché non vuole affrontare tutte quelle che sono le conseguenze ovviamente della decisione di allontanamento, perché ovviamente in un rapporto di coppia le decisioni dovrebbero essere prese in due, dovrebbero essere prese in modo corretto e soprattutto attraverso il dialogo. Quindi a me è un dialogo chiarificatore per capire qual è il problema, cosa succede, perché si fanno certe cose. Purtroppo, dico purtroppo, non tutti riescono a farla. È ovvio che le persone che subiscono questo trattamento di ghosting, quindi della scomparsa improvvisa, possono essere devastanti perché si innescano nel partner abbandonato di colpo dei sensi di umiliazione, di disorientamento, no? Quindi ovviamente le persone lasciate in questo modo molte volte vanno in crisi, perché non si danno una spiegazione, non riescono a capire il perché. Tante volte effettivamente il problema non nasce tanto dal distacco, ma dal fatto che le persone non capiscono il perché questa cosa sia successa. Effettivamente l'unica cosa che vi dico, come ho già accennato prima, è che tendenzialmente queste persone non hanno il coraggio di affrontare una discussione del genere. Il più delle volte, ovviamente. Poi ci sono a essere casi limite diversi e li vanno trattati di volta in volta. La cosa fondamentale è sapere che noi possiamo tranquillamente uscire fuori da questo senso di disperazione, da questa umiliazione e ripartire, rinascere, perché fondamentalmente la cosa essenziale non è solo sopravvivere, ma è vivere pienamente la propria vita. Per qualunque cosa, per qualunque necessità, vi ricordo che siamo disponibili e raggiungibili, che la nostra associazione www.ioscelcome.it supporta tutte le persone che hanno problemi e hanno bisogno di rinascere, ripartire e di volare liberamente con le loro ali. Ci sentiamo presto, un grosso abbraccio, vi ricordo che sotto avete tutti i contatti per intracciarci e contattarci in caso di necessità. A presto, ciao!